Pagliamo le tasse, non abbiamo servizi e ci ritroviamo con travenzioni senza comprendere bene il motivo. Sopralluogo questa mattina di TV City nel parcheggio adiacente alla stazione delle ferrovie dello Stato di Torre del Greco. A seguito di segnalazioni giunte in redazione abbiamo raccolto la voce dei cittadini. Ci ritroviamo delle multe, alle volte non si spiega la motivazione, anche perché le macchine vengono parcheggiate in una situazione che non ostacolano il traffico e quindi non in una situazione di necessità di fare la multa al cittadino. Anche in questo parcheggio qui accanto alla stazione delle ferrovie dello Stato, proprio in questi giorni i vigili sono passati a fare una raffica di multe. Sì, sono delle multe gratuite. A volte ho visto, perché spesso prendo il treno del treno metropolitano della ferrovia dello Stato e mi accorgo che ci sono delle multe ad alcune autovetture laddove non ostruiscono il traffico. Anzi, voglio dire ancora una di più, io sotto il mio palazzo mi sono ritrovato la multa al mio motorino, preferivo che lo rubassero per quanto vale, la multa per lo spazzamento. Chi per esso poteva tranquillamente spostarlo perché lo lascio anche senza il blocco a sterzo. Invece l'ho trovato con la multa. È un eccesso di zelo di queste guardie municipali che dovrebbero vedere bene altre cose. Vedere altre cose come ad esempio? Ma come ad esempio notare tutte queste buche che ci sono per la strada, che comunque noi regolarmente paghiamo tutte le nostre tasse, siamo gente per bene, lavoratori e paghiamo le nostre tasse, oppure tutta questa spazzatura, multare chi magari mette i rifiuti in orari diversi da quelli che dovrebbe, la raccolta differenziata, fare tutt'altro tipo di bonificatore del greco anziché omaggiare ai cittadini di queste multe. Sembra quasi un accanimento. Sì, un accanimento, è la parola esatta, è trovato proprio la parola esatta, accanimento. Si accaniscono contro questi, che magari qualcuno, magari potrebbe anche essere giustificata, ma c'è un eccesso di queste multe che non mettono le mani nelle tasche dei cittadini per bene. Questo è mettere le mani nelle tasche dei cittadini per bene, come la patrimoniale uguale. Si vede che forse il Comune vuole fare soldi in questo modo qua, non lo so io. Anche la signora alle nostre spalle, è uscita dalla stazione dell'FS, ha trovato una multa perché non sostava negli appositi spazi segnalati. Ma però si vede che qua a terra non c'è niente da segnalare, è un posto, penso, libero, come anche quest'altra macchina qua, forse lì è stata fatta la multa che sta in curva, non lo so io, ma purtroppo qua a Torre del Greco si sa, no? Deve ne fare solo i soldi e basta. Purtroppo il Comune è quello che cos'è, oltre a quella anche la spazzatura, la roba, si paga molti soldi, però si vedono sempre le strade tutte sporche, eccetera, eccetera. E rifiuti messi in posto che non lo togono neanche. Quindi mancano i servizi, mancano i controlli. Manca di tutto. Purtroppo è il popolo che ha voluto così, perché quando vanno alle votazioni danno voti a gente che non solo meritano. Adesso ci accingiamo a nuove votazioni. A nuove votazioni, però saranno sempre i soliti che stanno lì. Gli assessori vanno da un lato, vanno da un altro lato, sempre per, penso, roba per loro. Questo è il guaio. Questo è il settore del Greco. L'articolo addirittura intersezione, no? Che magari misuriamo con millimetri, con calibro. Mi sembra poco, poco, esagerato. Giusto o no? È una cosa che non va, non va, non va. Determinate le sanzioni. Per me sono anomale. Lei come se lo spiega? Non lo so, non riesco a spiegare. Spero che avremo una risposta sicura. Forse il buon senso della gente verificatore, della gente che mette le sanzioni. Speriamo. Per me è una cosa anomale, penso per tanti cittadini.